In questa lezione studiamo il moto dell'oscillatore armonico in assenza di attriti, soggetto ad una forza periodica che agisce dall'esterno. L'equazione prototipo del fenomeno è y' più ω²y uguale α coseno di νt. La funzione a secondo membro, α coseno di νt, si dice forzante dell'oscillatore dell'oscillatore e νt si dice pulsazione della forzante, mentre ω è la pulsazione propria dell'oscillatore. Analogamente, ν diviso 2π e ω diviso 2π si dicono frequenza della forzante e frequenza propria dell'oscillatore. Le soluzioni dell'equazione omogenea corrispondente sono queste, al variare di c1 e c2. Per trovare tutte le soluzioni dell'equazione completa ci basta trovarne una con il metodo di somiglianza. Nel caso di forzante trigonometrica possono presentarsi due situazioni. Il caso generale, in cui la frequenza della forzante è diversa da quella dell'oscillatore, è il caso invece in cui forziamo il sistema proprio con una forza esterna che ha frequenza uguale a quella delle oscillazioni proprie del sistema stesso. Nel primo caso, possiamo cercare una soluzione particolare di questo tipo, con b e c da determinare. Calcolando la derivata seconda e sostituendo nell'equazione, otteniamo i valori di b e c, per cui yp è una soluzione particolare. Riscrivendo la soluzione dell'omogenea in termini di ampiezza e fase, otteniamo che tutte le soluzioni dell'equazione completa sono queste. Il moto risulta quindi essere la sovrapposizione di due moti oscillatori con pulsazioni diverse, quindi periodi diversi. Osserviamo che la somma di due funzioni periodiche con periodi diversi può essere periodica, ma può anche non esserlo, a seconda che il rapporto tra le frequenze sia razionale oppure no. Nel caso in cui la funzione risultante è effettivamente periodica, ma ha un periodo molto più lungo dei due periodi di partenza, di fatto non percepiamo la funzione come periodica. Invece, quando le pulsazioni sono vicine ma non identiche e le ampiezze sono paragonabili, la vibrazione risultante ha un aspetto di questo tipo. Quest'ultimo grafico riproduce la figura nota come battimenti, ovvero variazioni periodiche dell'ampiezza massima dell'onda risultante. In acustica, questo fenomeno, ben noto, si manifesta come periodico rafforzarsi e indebolirsi dell'intensità di un suono per effetto della sovrapposizione di due suoni con frequenze leggermente diverse. Torniamo ora all'espressione analitica delle soluzioni. Si noti che mentre l'ampiezza A del termine compulsazione ω dipende dalle condizioni iniziali, l'ampiezza del termine compulsazione ν non ne dipende. L'ampiezza dipende dalle caratteristiche fisiche del sistema e da quelle della forzante. Essa è più o meno grande a seconda di quanto le pulsazioni ω e ν risultano vicine o lontane tra di loro, visto che a denominatore compare la differenza dei loro quadrati. In particolare, se immaginiamo di variare la pulsazione della forzante avvicinandola sempre di più a quella propria dell'oscillatore, assistiamo a un aumento dell'ampiezza del termine di pulsazione ν, mentre l'altro termine risulterà alla fine trascurabile. Questo suggerisce che, nel caso in cui la frequenza della forzante è uguale alla frequenza propria dell'oscillatore, ν uguale ω, si possono avere oscillazioni di ampiezza grande in modo catastrofico. È quello che infatti succede, come ora vedremo. L'equazione che dobbiamo risolvere è y' in questo caso il termine forzante è soluzione dell'equazione omogenea, perciò l'equazione completa non può avere una soluzione simile al termine noto. Dal metodo di somiglianza sappiamo che la soluzione particolare deve essere cercata in questa forma, con b e c costanti reali da determinare. In realtà possiamo subito dire che b deve essere nullo. Infatti t coseno di ωt è una funzione dispari. Anche la sua derivata seconda lo è, di conseguenza anche la somma y' più ω quadro y è una funzione dispari. Pertanto questo termine non potrà mai eguagliare α coseno di ωt, che è una funzione pari. Derivando l'altro termine, sostituendo nell'equazione otteniamo un'equazione nell'incognita c, che deve valere per ogni t. La sua soluzione è c uguale α diviso 2 ω. Perciò tutte le soluzioni dell'equazione completa sono date da questa funzione. Il corpo si muove di modo oscillatorio, nel senso che attraversa infinite volte la posizione di equilibrio, ma al crescere del tempo le oscillazioni assumono ampiezza sempre più grande. Questo fenomeno viene chiamato risonanza. Il fenomeno della risonanza è visibile anche nel quotidiano. Quando spingiamo una persona sull'altalena per ottenere un moto sempre più ampio, sappiamo di dover imprimere all'altalena delle spinte anche piccole, ma sempre sincronizzate con il suo moto. Esistono esempi famosi dei possibili effetti della risonanza. Infatti molti sistemi fisici hanno delle frequenze proprie di oscillazione, in particolare i ponti. Quindi i ponti possono andare in risonanza. Un esempio è il crollo del Broughton Suspension Bridge vicino a Manchester, avvenuto nel 1831. In quell'occasione i soldati di una truppa marciavano al passo. I colpi dei passi ritmati sul ponte lo fecero vibrare in modo tale da amplificarne le oscillazioni spontanee, fino a staccare i cavi che lo sorreggevano. A Vanger, in Francia nel 1850, ci fu un altro crollo dovuto al passaggio di una truppa di soldati. I soldati sapevano di dover rompere il passo prima di salire sul ponte, ma il ponte oscillava a causa del forte vento. Nello sforzo di mantenere l'equilibrio i soldati involontariamente cominciarono a muoversi con la stessa frequenza del ponte, aumentandone così le vibrazioni fino al crollo. Un episodio simile stava per ripetersi con il Millennium Bridge a Londra, chiuso poco dopo la sua inaugurazione nel 2000. Infatti, durante l'inaugurazione, il ponte cominciò a vibrare e la folla spontaneamente si mise a camminare in fase con le oscillazioni del ponte, aumentandone pericolosamente l'ampiezza. Nel febbraio 2002 il ponte è stato riaperto, ma con l'aggiunta di un certo numero di ammortizzatori.